Anche dal governo un segno di attenzione sull'eclatante caso di un primario dell'oncologico di Bari arrestato con l'accusa di aver intascato indebitamente soldi da un paziente. Un riflettore acceso attraverso una visita al Giovanni Paolo II del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato accompagnato dal senatore Filippo Melchiorre e dal consigliere regionale Michele Piccaro, tutti di Fratelli d'Italia. La presenza qui in presenza di una notizia giornalistica a mio avviso sconcertante, cioè il fatto che un medico prendesse dei quattrini per far saltare liste d'attesa di persone malati di tumore. Forse è il peggio che si può pensare. Ora, siamo in una società di diritto e esiste la presunzione di innocenza. Se dovessero essere vere le notizie però sono preoccupanti. La mia presenza qui è un atto di solidarietà nei confronti dell'istituzione, dei professionisti, dei medici che svolgono fino in fondo il loro dovere e lo fanno nell'interesse della comunità ma proprio per questo non possono essere equiparati o paragonati ad altri che non fanno il proprio dovere. Quindi la presenza qui è una presenza puntuale del governo per essere al fianco degli operatori sanitari, al fianco dei pazienti che invitiamo a denunciare puntualmente qualora dovessero esistere ulteriori fenomeni di questo tipo. È stato un gesto che abbiamo apprezzato molto perché sta a testimoniare la vicinanza e la solidarietà da parte delle istituzioni centrali in particolar modo verso il nostro istituto e verso tutti quegli operatori che quotidianamente con grandissimo spirito di abnegazione si dedicano alla presa in carico di pazienti fragili oncologici, fragili non soltanto da un punto di vista clinico ma soprattutto psicologico. La visita è arrivata durante una riunione riorganizzativa tra il direttore dell'istituto Alessandro delle Donne e i medici. I pazienti che erano presi in carichi da quell'ambulatorio gestito dal dottor Lorusso sono stati poi redistribuiti all'interno del nostro istituto con la creazione e il coinvolgimento dei team multidisciplinari già presenti nella nostra realtà ospedaliera e che garantiranno la piena presa in carico e la continuità assistenziale già erogata in passato.